Dopo aver viaggiato nel tempo con l'affascinante Trinidad, il nostro viaggio prosegue in direzione di Sienfuegos, la città denominata da tutti come la Perla del Sur. Se Cuba avesse una Parigi, sicuramente sarebbe Sienfuegos. L'elegante cittadina cubana è di fatto un continuo intreccio di elementi francesi ed esuberanza caraibica. Tale miscuglio architettonico è dovuto al fatto che la città fu fondata nel 1819 proprio da coloni francesi provenienti da Bordeaux. La piazza centrale José Martí è sicuramente il luogo di maggiore interesse. Dal 2005 l'UNESCO ha inserito tutto il centro storico di Sienfuegos nell'elenco dei patrimoni dell'umanità per il suo valore artistico e culturale. Basti pensare che è il luogo caraibico con il più alto numero di edifici neoclassici. Il teatro Thomas Terry è probabilmente il più famoso monumento di Sienfuegos poiché ha ospitato artisti di calibro internazionale quali Caruso e Anna Pavlova e ancora oggi si presta come fulcro culturale della città. La grande plaza si mostra in tutta la sua bellezza anche grazie al palacio de gobierno e alla cattedrale della purissima Concepción che riflette grazie ai colori dei suoi rosoni francesi. La chiesa inoltre nasconde un segreto storico davvero particolare. Su una delle colonne portanti è possibile notare delle antiche incisioni in cinese. Infatti Cuba a metà del XIX secolo consentì una grande immigrazione di lavoratori cinesi per sostituire la mano d'opera degli schiavi africani nelle piantagioni di zucchero. A fare da cornice alla piazza Martì ritroviamo tantissimi palazzi dipinti di nuova vita come il neoclassico Palazzo Ferrer. Un magnifico lavoro di architettura in cui domina l'azzurro e la qualità dei lavori in marmo. Dopo la permanenza a Trinidad ci siamo fermati lì tre giorni, ora siamo a Sienfuegos che è una città molto particolare, vero Rosy? Sì, infatti Sienfuegos è stata fondata da un francese e tutta la città si nota questo stile francese, infatti l'area cubana si respira poco. Adesso andiamo un po' a scoprirla e la cosa carina di Sienfuegos è che ha la sua laguna e con una barchetta si arriva al castello. Quindi adesso andiamo a prenderci la barca e andiamo a vedere il castello di Sienfuegos. Con una traversata di 40 minuti a bordo di una barchetta stracolma di Cubani attraversiamo tutta la Baia ammirando ancora in lontananza le verdivette della Sirra delle Scambray. Costruito strategicamente alla bocca della Baia di Sienfuegos contro le incursioni dei pirati, il castiglio del Nuestra Signora de Los Angeles de Hawa si presenta ancora oggi in ottime condizioni, con la sua torre di avvistamento, il fossato e un ponte elevatoio ancora in funzione. Oggi ben restaurato e trasformato in museo, il castello merita una visita e regala una piacevole vista dalla sua terrazza. Il museo rivela anche un altro aspetto della storia cubana più segreta, ovvero il tentativo di nuclearizzazione. Qui a Cuba venne stilato un piano che prevedeva la costruzione della più grande base nucleare del Latino America, proprio dietro il castello nella Baia di Sienfuegos, con il supporto dell'Unione Sovietica. Una vera e propria città nucleare che è andata presto in abbandono con il crollo sovietico nel 1992, lasciando oggi nient'altro che gli scheletri della Guerra Fredda. Un'attenzione particolare qui a Sienfuegos la merita anche il suo lunghissimo malecone, che oltre ad ospitare palazzi coloniali dalla bellezza suggestiva, celebra anche con una statua il più importante esponente di questa città, il cantante Benny Moré. Nato a Sienfuegos nel 1900, Moré divenne presto il cantante cubano per antonomasia e grazie al suo estro musicale dominava la scena del bolero, son, mambo e guarachà, una figura che abbiamo conosciuto anche grazie a Valodia, la cubana che ci ha ospitato e dalla quale abbiamo chiesto di descrivere cosa significhi per lei ospitare viaggiatori come noi. Del turista apprendemos mucho, cada uno apporta su poquito, apporta l'economia del suo paese, apporta le costumbre del suo paese, apporta l'idioma, è conversare con il turista, conversare con il turista non è entrare in una chiave friamente, non è conversare con il turista, è apprendere tutto lo che trae. E il turista che viene a vedere la città, a conoscere le storie della città, a conoscere Cuba come un suo gente, è acconsagibile 100%. Grazie a Valodia. Le parole di Valodia rispecchiano le tante opportunità che Cuba concede. Una terra che sa essere maestra cinica, ma mai banale, in grado di alimentare con i propri segreti l'inesauribile voglia di curiosità di ogni viaggiatore. Grazie a tutti.